Alla fine è arrivata anche l'incidente qui Che male, che fa? Taglia tutto che voglio vedere cosa c'ho Forza C'è, ce l'ho rotta, ce l'ho rotta la gamba Se andavi a casa, se non venivi qua con noi Eh, se non venivo in ambulanza, andavo a casa e non mi pagavano un cazzo Quello, uno, due, peggioravi Eh, fa niente, tanto, si vuole una volta storia Sono Daniele, ho 41 anni, sono sardo, vivo a Milano da 11 anni e svolgo il lavoro del rider Sono una persona che comunque utilizza molto i social Non solo per far vedere alla gente quello che faccio Ma soprattutto Più per Tenerla come una sorta di diario Di ricordo Ed essendo stato Un videomaker anche Eh, avendo realizzato Diversi videoclip Svolgendo questo lavoro Mi venne questa brillante idea Di documentare Tutto quello che succedeva Durante la mia giornata lavorativa Questo progetto di Riderman Ovvero Raccontare la vita dei rider In primis è nato dal videogioco Radical Bikers Che è nato nel 1998 Questo videogioco praticamente rappresenta Quello che ora è il lavoro normale di noi rider Sicuramente riconoscerete questa musichetta In questo videogioco praticamente il portapizza si sfida, fa delle sfide nel battere il minor tempo possibile della consegna Ovvero insieme ad un altro che è il computer Effettuano delle gare per poter recapitare il cibo a casa del cliente Oltretutto rappresenta la vita stressante di quello che i rider sono sottoposti a superare o sopportare durante il loro lavoro Quindi la fantasia del creatore di questo videogioco ha superato la realtà Già ai suoi tempi nel 1998 Come se si fosse catapultato ai giorni nostri In questo nuovo lavoro che è fare il rider ... ... ... ... Grazie per la visione!